Gentili telespettatori, buona giornata. Il leader della Lega Matteo Salvini dice che la risurrezione per lo Stato italiano, gli italiani, l'economia italiana e tutto il resto sarà appena dopo Pasqua. Questa è la richiesta di Matteo Salvini, è l'unica possibilità. E spinge così il segretario della Lega per riaprire l'Italia dopo le chiusure decisive per tutto il per tutto il mese di marzo, che andranno a coinvolgere anche il periodo di Pasqua. Il leader della Lega su Rete 4, ospite nel programma Stasera Italia Speciale, ha dato un input chiaro a quelle che dovranno essere le azioni del governo guidato da Mario Draghi, che in queste settimane ha chiesto agli italiani ulteriori sacrifici a più di un anno dall'inizio della pandemia. E aggiunge la riapertura sono l'unica possibilità per risorgere dopo Pasqua. Gli italiani stanno mostrando rispetto e spirito di sacrificio, ma aprile deve essere il mese della risurrezione. Stiamo lavorando in tutti i modi per avere i vaccini dall'estero, a cominciare poi anche a produrli in Italia, e contando sul fatto che la curva scenderà. La bella stagione arriva, ad aprile riaprire un ritorno alla vita, dice Matteo Salvini. E così poi affronta anche la questione del vaccino AstraZeneca. Dice l'Unione Europea ha dimostrato un drammatico fallimento e come cittadini italiani ci aspettiamo che qualcuno paghi, ma ora dobbiamo risolvere i problemi. AstraZeneca aveva promesso all'Italia 25 milioni di vaccini, ce ne hanno dati 5, ne hanno in magazzino in Italia 29 bilioni. Bene, li blocchiamo finché non si risolve la situazione. Inoltre se il vaccino russo funziona in 56 paesi del mondo e anche a San Marino, nel cuore dell'Italia, la rivalità tra Oriente e Occidente e la politica non può tenere in ostaggio la salute. Se funziona, sottolinea Salvini, ci permetteranno, ci permettano di usarlo. Beh, ovviamente a me quella dell'Europa che fa finta di nulla sul vaccino russo, fischietta, secondo me è una sorta di guerra commerciale sulla pelle dei cittadini europei. Come dice Putin, dice ma voi state a pensare alle guerre commerciali invece che alla salute dei vostri cittadini. Come dire, qua abbiamo il vaccino, ve lo possiamo anche mandare, voi non lo volete. Fate finta, adesso dobbiamo decidere, dobbiamo vedere, dobbiamo valutare. E gli altri 56 paesi come hanno fatto, come hanno valutato, no? Tutti dei qua 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 questi 56 paesi? Insomma, sembra tanto una guerra commerciale sulla pelle, sulla salute degli europei. Beh, possiamo anche dire che sicuramente le 29 milioni di dosi andrebbero esattamente confiscate immediatamente. Poi la stoccata alla Cina dice, è ormai evidente che la Cina, non dico volontariamente, ma con bugie, ritardi, omissioni, ha contribuito a che tutto il mondo fosse contagiato. Hanno taciuto per quattro mesi quello che stava succedendo e dovrà essere appurato cosa è successo. Anche perché l'unica economia che cresce in questo momento è quella cinese e vanno in giro per il mondo a comprare aziende. Ora la priorità, conclude Salvini, la lotta al virus, ma nei prossimi mesi questo aspetto andrà approfondito. Su questo non c'è dubbio. Un'altra cosa che io volevo farvi notare è che questo governo, più che un governo di tutti, a me sembra più un governo Draghi con due vice, Meloni e Salvini. Sembra tipo il governo Conte 1 dove c'era Conte e i due vice Salvini e Di Maio. Qui sembra Draghi con i due vice Salvini e Meloni. Meloni all'opposizione e Salvini al governo sono gli unici due che propongono cose concrete, proposte intelligenti e naturalmente la gran parte di queste richieste vengono ascoltate da Draghi, che in maniera apolitica trasversale ascolta, prende nota e molto spesso accoglie queste proposte.